Si chiama Amy Stead, ha 37 anni di età, è una donna a cui è stata tolta, quindi levata la possibilità di vivere la maternità, la nascita del primo figlio che per tutta la vita dovrà avere a che fare, quindi a che vedere con delle conseguenze drammatiche per colpa di un fatto giudicato come affrettato, complicazioni troppo prese alla leggera, infatti si considera la leggera intervista alla donna che ha fatto nascere un mimbo nel 2019, la donna ha sofferto di PTSD, si tratta di un disturbo da stress post-traumatico ma anche di stomia o stomia. La decisione di fare causa all'ospedale non è stata così facile come qualcuno può pensare, perché era un posto dove lavorava, dopo 5 anni Amy quindi ha ricevuto circa 664.000 euro come risarcimento. Complicazioni, negligenza, risarcimento del danno sono questi tre elementi determinanti che vanno a raccontare la vicenda di questa donna straniera. Non aggiungo altro, mi infono però che è una situazione drammatica, visti e ovviamente spiacevole. Grazie a tutti, il video termina qua, iscrivetevi e commentate. Ciao!